Ehi, tu. Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ho detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo vuoi? Ehi, no! Harry! Tutto ok? Sta indietro, tu! È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Sta indietro! Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Beh, è stato intenso. Stai bene? Sì. Troviamo quella torre radio. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Ti hanno gli occhi aperti! Ci avevo già pensato. Cosa? Prima volta su. Beh, quando è in acqua la questione è diversa. Un passo per questo. Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Oh, lo leggo dopo. Oh, lo leggo dopo. Oh, lo leggo dopo. Non si può andare di qua Per un secondo ho pensato gli avresti sparato Già, c'è mancato poco Sono a posto Credo sia una buona cosa averli nei paraggi Lo penso anch'io Ma a quei tempi avevano tutti una barca Sì, io avevo uno yacht di venti metri Davvero? No Sarcasmo Facciamo progressi Ehi Ellie, mi sa che abbiamo trovato qualcosa Andiamo a vedere cos'è Scommetto che arriva fin dall'altra parte Dammi una mano con questa Allora 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 Ok, insieme Forza Facciamolo Ok, dai ragazzi, via Ok, andiamo Dai, entrate Ehi, fuori le torce Sam, restami Qualcuno sta imparando finalmente Joel, dovremmo guardare di qua Ok, guardiamo da questa parte Non mi piace Non mi piace questo gusto Neanche a me Non abbiamo un'operazione No Ok, guardiamo da questa parte Se riesci ad aprirla Striccio dentro e sblocco la porta Oh, diavolo Che rasso enorme Ehi, di qua Andiamo da questa parte Ehi, qui significa Ehi, qui XML Abbiamo da questa parte Ehi, qui slediamo Ehi, qui è il nostro Questa è questo Ehi, qui conoscete Ehi, qui vediamo Que si può Ehi, qui vediamo Ehi, qui vediamo Ehi, qui vediamo Ehi, qui vediamo Sì. 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 Possiamo uscire da qui. No, non c'è modo di arrivarci. Beh, io non so nuotare. Allora siamo in nuova. Ok, Joel. Come attraversiamo? Potremmo inventarci qualcosa. Questa fuori c'è una specie di grande incastrata. Forse possiamo usarlo in qualche modo. Guardate, un generatore. Aspettate lì voi. Sì. 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 Harry, fai una prova. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Yeah. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Oh, ecco fatto. Astuto. Non devo dover uscire da qui. Ok, vediamo se il generatore è al prete. Tentare non nuoce. Tentare non nuoce. Grande! Già, ma non portare sfiga. Oh, ok, 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 ok. Non abbiamo scelta. Non abbiamo scelta. Ok, 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 ok. Oh, guarda. Trappola fanora. È una specie di allarme. Io non sento niente. Qualcuno viveva qui. Ma non più, a quanto pare. Chi vivrebbe qui dentro? Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo. Fantastico. Ellie, non... Rilassati. Ehi, Sam. Ellie, hai visto? Senza far rumore, ok? Sì, scusa. Allora. 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 Grazie. Sì, silenzio. Attenzione! Altre tre arrivano! Beh, ora sappiamo che è successo a questa gente. Visto che c'era un clicker, direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Lo so, è improbabile. No, no, no. 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 Ehi, forse da lì si esce. Forse. Ma non potrei spingerti lassù. Magari c'è un'altra strada. No, 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 no. Sam, torna indietro! Sam! Sì, tutto ok. Sono stato io. Sono stato io. Andrà tutto bene. Sì, sì, lo so. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok, muoversi. Forza, andiamo! Aria fresca. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Grazie dell'avvertimento sull'altro lato. E dov'è questa torre? Ci siamo. Forza, andiamo!